We are monsters, we are proud! Draculaura, tu sarai la futura regina dei vampiri! C'è una nuova studentessa regale alla Monster High! Tu sei stata scelta come regina! Non può essere! Lord Stalker? Cosa ci fa lei qui? Sono stato condotto da te, dal cuore di vampiro! Ma quando Draculaura scopre la verità... Lo vedrai come una marionetta! Questo vuol dire che non sono regina! Puoi comunque tenere tutti questi vestiti, giusto? Le sue mostramiche decidono... Se non sei tu la regina... Allora, chi sarà mai di aiutarla a trovare la vera sovrana? Troviamo la regina! Solo lei può fermare Lord Stalker! Se quella mostriciato la mostra e i suoi canini... Il mio regno di potere sarà finito per sempre! Partiranno per il nuovo mondo! Huntlywood, preparati ad incontrare la Monster High! E io, invece, sono Veronica Von Bump! La grande stella del cinema! Si direbbe che abbiate bisogno di una mano! Vivranno avventure da brivido! New Orleans! Io sono Honey Swamp! Piacere di fare la vostra conoscenza! E rivolteranno ogni tomba! Claudia! Sorellona, grazie dell'aiuto! Riusciranno a trovare la vera regina dei vampiri? Non posso fermarmi finché non l'avrò trovata! Questo è il momento di svolta nella storia dei mostri! Monster High! Chucky! Si grida! D'accordo, posso provare ancora una volta! Questa proprio non la sentivo! Un nuovo film in arrivo in DVD!